La prigioniera Esmeralda è stata riconosciuta colpevole del crimine di stregoneria. La sentenza morte. L'ora è giunta, Zingara. Sei affacciata sull'orlo dell'abisso. Ciò nonostante non è troppo tardi, posso salvarti dalle fiamme di questo mondo e del prossimo. Scegli me o il fuoco. La Zingara Esmeralda si è rifiutata di aviurare. Questa strega malvagia ha messo a mortale e repettaglio l'anima di ogni cittadino di Parigi. Coraggio quasi, svegliati! Sono i tuoi amici quelli. È tutta colpa mia. Devi spezzare queste catene! Non posso. Ho provato, che differenza farebbe? Ma non puoi lasciare che Frollo vinca! Ha già vinto. E così ti arrendi? Finito? Non sono queste catene a trattenerti, Quasimodo. Lasciatemi in pace. Va bene. Va bene quasi. Ti lasciamo in pace. Dopotutto siamo fatti solo di pietra. Pensavamo che tu fossi fatto di una materia più forte. Per la giustizia, per Parigi e per la sua stessa salvezza, è mio sacro dovere rispedire questo empio demone all'inferno da cui proviene. No! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Diritto di asilo! Diritto di asilo! Diritto di asilo!